Siamo in pieno cambio di stagione autunnale, un periodo particolare per la cura delle capello, una tematica che viene trattata quotidianamente da Stile Capelli di Davide Ziccarelli, al quale chiediamo alcuni consigli per affrontare questa stagione. Allora, diciamo che sì, è una stagione abbastanza importante perché veniamo dall'estate, che dopo il mare, dopo essere andati in piscina e essersi esposti al sole, i capelli si sono sensibilizzati, dannezzati, dove troviamo i capelli più secchi, più sfibrati, quindi adesso è l'ora di andarli a risanare. Noi di Stile Capelli sono ormai 40 anni che ci occupiamo della cura del capello, in colorazioni 100% sane, dove grazie all'utilizzo di una microcamera andiamo a visionare bene lo stato di cute e capelli. E da lì andiamo a creare un programma specifico per ogni singola cliente, per la cura dei propri capelli. Per le donne l'esigenza di scheritura a capello è una procedura consigliata in questo periodo? Allora, sì, diciamo che prima di qualsiasi colorazione a scheritura andiamo un po' a stabilizzare bene lo stato del capello, quindi se è il caso di effettuarla o magari è bene effettuare dei trattamenti iniziali per la cura del capello e poi andiamo a effettuare scheriture. Adesso è un momento comunque dove tante donne si prestano a fare scheriture perché comunque dopo l'estate si vuole un po' riprendere anche quell'effetto un po' come baciati dal sole, quindi sfumature sempre adesso di moda, effetti naturali, dal più biondo a magari effetti anche sul castano, cacao, cioccolato, adesso sta tornando tanto. Quindi abbiamo un po' di tutti i colori. E dunque se volete cambiare look, siete indecise, potete contattarci direttamente ai numeri qui sottostanti o su Instagram o Facebook. Vi aspettiamo!